La parola quotidiana di Dio Dovreste apprendere lezioni di maggiore realismo. Non servono quei discorsi altisonanti e vuoti che suscitano l'ammirazione della gente. Quando si parla di conoscenza, quella di ognuno è più grande di quella di chi lo ha preceduto. Tuttavia, nessuno dei due è ancora sulla via della pratica. Quante persone hanno compreso i principi della pratica? Quanti hanno imparato lezioni concrete? Chi sa condividere la realtà? Se sai mostrare nei discorsi la tua conoscenza delle parole di Dio, non significa che tu possieda un'autentica statura, ma dimostra solo che sei nato intelligente e talentuoso. Se non sai indicare la via, non otterrai risultati. E non sarai altro che una inutile nullità. Non stai forse solo fingendo se non sai dire nulla che riguardi una vera via di pratica. Non sei forse falso se non sei in grado di offrire agli altri le tue esperienze concrete, mettendo in tal modo a loro disposizione insegnamenti da apprendere o una via da seguire. Non sei forse un ciarlatano? Che valore hai? Una persona che agisce così potrebbe svolgere solamente il ruolo di inventore della teoria del socialismo, ma non quello di contributore alla nascita del socialismo. Essere senza realtà significa essere senza verità. Essere senza realtà significa essere dei buoni a nulla. Essere senza realtà significa essere un morto che cammina. Essere senza realtà è come essere un pensatore marxista-leninista, ma senza valori di riferimento. Esorto ciascuno di voi a tacere sulla teoria e a incominciare a parlare di qualcosa di reale, genuino e sostanziale. A studiare un po' di arte moderna, a dire qualcosa di realistico, a contribuire con qualcosa di reale e ad avere un po' di spirito di dedizione. Fai i conti con la realtà quando parli e non indulgere in discorsi irrealistici ed esagerati solo per accontentare le persone o per catturare la loro attenzione e farti notare. Che valore ha una cosa simile? Che senso ha indurre gli altri a trattarti con calore? Sii un po' artistico nel tuo parlare, un po' più giusto nella tua condotta, un po' più ragionevole nel modo in cui gestisci le cose, un po' più pratico in ciò che dici. Pensa a portare benefici alla casa di Dio con ogni tua azione. Ascolta la tua coscienza quando sei preso dall'emozione. Non ripagare la gentilezza con l'odio, né mostrarti in grato dinanzi a essa e non essere ipocrita se non vuoi diventare un cattivo esempio. Quando ti nutri delle parole di Dio, rapportale più strettamente alla realtà e durante la condivisione parla maggiormente di cose realistiche. Non essere condiscendente, questo non soddisferà Dio. Nelle tue interazioni con gli altri, sii un po' più tollerante, un po' più arrendevole, un po' più magnanimo e impara dallo spirito del primo ministro. Quando fai cattivi pensieri, pratica ancora di più la rinuncia alla carne. Quando svolgi il tuo lavoro, parla maggiormente di percorsi realistici e non assumere toni troppo elevati, altrimenti le tue parole non saranno alla portata della gente. Minore appagamento significa maggiore contributo. Mostra il tuo spirito altruistico di dedizione. Abbi maggior riguardo per le intenzioni di Dio. Ascolta maggiormente la tua coscienza. Sii più consapevole e non dimenticare che Dio ti parla con pazienza e fervore giorno dopo giorno. Leggi più spesso il vecchio almanacco. Prega di più e condividi più di frequente. Schiarisciti le idee. Dai prova di maggior buonsenso e acquisisci un po' di discernimento. Quando la tua mano è tentata di peccare, ritraila e non lasciare che arrivi a tanto. È inutile e ciò che riceverai da Dio saranno solo maledizioni. Perciò sta attento. Lascia che il tuo cuore si muova a pietà per il tuo prossimo e non partire sempre con le armi in pugno. Condividi di più la conoscenza della verità e parla maggiormente della vita, sempre con spirito di aiuto verso gli altri. Fa di più e parla di meno. Dedicati di più alla pratica e meno alla ricerca e all'analisi. Lasciati muovere maggiormente dallo Spirito Santo e da a Dio più occasioni di perfezionarti. Elimina un maggior numero di elementi umani. Continuano a esserci in te troppi modi umani di fare le cose e questi tuoi modi e comportamenti superficiali sono e restano odiosi per gli altri. Eliminane un maggior numero. Le tue caratteristiche psicologiche sono ancora troppo detestabili. Dedica più tempo a migliorarle. Continui a dare troppo credito alle persone. Dà più credito a Dio e non essere così irragionevole. Il Tempio appartiene da sempre a Dio e gli uomini non dovrebbero prenderne il controllo. In poche parole, concentrati maggiormente sulla giustizia e meno sulle emozioni. È bene eliminare la carne. Parla di più della realtà e meno della conoscenza. Ancora meglio è tacere e non parlare di nulla. Parla maggiormente della via di pratica e fai meno sfoggio inutile. È meglio iniziare a praticare fin da ora. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.